Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. Avverto che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e dei rappresentanti del Governo, secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Ricordo inoltre che per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata, il rappresentante di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto. Al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta, il presentatore ha diritto di replica per due minuti. Ha chiesto la parola al Governo. Grazie Presidente. Volevo chiedere all'Onorevole Fragomeni la cortesia di trasformare, se è disponibile la sua interrogazione e risposta immediata in una interrogazione ordinaria, di modo che noi possiamo rispondere con un po' più di tempo, perché oggi potrei fornire una risposta solo parziale, perché i dati a cui l'Onorevole nella sua interrogazione si mostra interessato non sono ancora elaborati e disponibili. Quindi piuttosto che dare oggi una risposta parziale, preferisco come Governo dare la prossima settimana una risposta completa. Se l'Onorevole è d'accordo, chiederei questa cortesia. Accolgo la richiesta. Perfetto. Passiamo ora all'interrogazione cinque trattino zero sei due nove uno San Gregorio, nomine ed incariche di vertice per la società Sose S.P.A. Invito il collega Colletti ad illustrarla. Mi scusi Presidente, io qui ho la mia cinque zero cinque cinque tre uno che poi è stata la prima firma Colletti. Sì, che poi è stata trasformata in question time, quindi non capisco come avete gestito le risposte, le eventuali risposte. È San Gregorio perché è della Commissione, però penso che poi risponda io. Sì, 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 certo. Non mi ridava il numero della... Devevo sei due nove uno? Comunque Presidente, a ogni modo, eh è un'interrogazione che riguarda eh la Sose S.P.A. che è una partecipata interamente dallo Stato con una quota della Banca Italia e su cui negli ultimi due anni, ma in realtà sono problemi anche nelle annualità precedenti, eh ci sono delle ombre sull'operato del professoratella nominato durante il governo Conte 1, nonché eh professore come l'allora ministro dell'Economia e Finanza e Giovanni Tria eh presso eh l'Università eh di Tor Vergata. Eh professore Ratella oltre a essere stato nominato nel Consiglio di Amministrazione eh come amministratore delegato si sembra che sia autonominato anche con e auto eh più che nominato si è fatto si è fatto un contratto a sé come direttore generale a tempo indeterminato con una retribuzione molto più alta rispetto a quella del ehm del Presidente del Consiglio di Amministrazione ma sulla medesima società vi sono delle ombre sul consulenza del dottor Pierluigi Semiani, un ottantenne che dovrebbe essere in pensione da lungo tempo e che opera ormai da lunghissimi anni nei confronti eh della S.P.A. che attualmente lavora anche come eh collabora come segretario per il Consiglio di Amministrazione sulle quali sembra esservi una spesa eh in tre anni di ben duecentocinquantamila euro a favore di questo eh dottor Semiani e su queste vicende nonché altre su cui presenterò e non proseguo altre interrogazioni vorrei avere chiarimenti da parte del Governo. Invito i rappresentanti del Governo a rispondere. Grazie Presidente. Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle nomine e all'incariche di vertice della S.P.A. anche alla luce degli articoli di stampa che ne hanno sollevato dubbi circa la relativa genuinità e trasparenza. A riguardo sentito il Dipartimento delle Finanze si rappresenta quanto segue. Occorre anzitutto premettere che con l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea degli azionisti tenuta in data 11 maggio ultimo scorso è venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della S.P.A. Il precedente Consiglio di Amministrazione nominato a dicembre duemila e diciotto era composto dal professor Vincenzo Attella, amministratore delegato, dal dottor Antonio Dorrello, presidente e dalla professoressa Laura Serlinga, consigliere di amministrazione. La S.P.A. è una società in house del MEF e delle agenzie fiscali, costituita nel 1999 ai sensi dell'articolo 10, 12 della legge 8 maggio 98 numero 146 per l'elaborazione degli studi di settore, ora indicatori sintetici di affidabilità fiscale, nonché per ogni altra attività di studio, ricerca e materia tributaria. Successivamente sono stati attribuiti alla S.O.S.O.S.E. ulteriori compiti, tra cui quelli previsti dal decreto legislativo numero 216 del 2010, di attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 42 2009 relativi all'elaborazione, monitoraggio, revisione dei costi e fabbisogni standard delle funzioni dei servizi resi esclusi al settore della sanità dalle regioni e dagli enti locali. Il Dipartimento delle Finanze esercita i diritti dell'azionista S.O.S.E. con l'88,89% delle azioni, mentre l'11,11% è posseduto dalla Banca d'Italia ed è il titolare della funzione di controllo analogo. Il controllo analogo si sostanza nell'esercizio di una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significativi della società controllata. Dunque tale influenza si estrinseca soltanto a livello della cosiddetta alta amministrazione della società controllata senza annullare, cioè l'autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo. Tanto premesso, con riferimento alla questione sollevata dalle onorevoli interroganti, relativamente alla circostanza che in capo al professor Attella si sono accumulate la carica di amministratore delegato e quella di direttore generale, si osserva che l'accorpamento delle due cariche in capo di una vedesima persona è ammesso dal decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, cosiddetto TUSP. Il Consiglio di amministrazione di Sose, nominato il 3 dicembre 2018, ha ritenuto di dover rivedere l'organizzazione aziendale per far fronte ai nuovi compiti che la attendevano, in particolare l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore introdotti poco tempo prima da legislatore. In tale contesto ha ritenuto indispensabile accorciare la catena di comando prevedendo la nomina di un direttore generale con funzioni direttamente operative anziché gestionali come quelle che spettano l'amministratore delegato. Se la Sose si fosse rivolta all'esterno per l'individuazione del direttore generale il suo emolumento si sarebbe inevitabilmente sommato a quello già riconosciuto all'amministratore delegato. La società ha invece optato per l'accorpamento dei ruoli e l'amministratore delegato ha rinunciato conseguentemente all'emolumento aspettante come amministratore delegato. Inoltre nel novembre 2018 era cessato dall'attività un dirigente che percepiva compensi di poco inferiori a quelli poi riconosciuti dal direttore generale. Tali fatti hanno consentito un complessivo risparmio di spese. Con riferimento invece alla questione relativa all'affidamento al dottor Pierluigi Semiani di incarichi di consulenza, nonostante il divieto previsto dalla legge 6 novembre 2012 numero 190, la legge Severino, si ricorda che l'articolo 1,42 lettera L della legge Severino ha aggiunto il come 16 terra, l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. In sostanza viene stabilito il divieto di pantouflage relativamente a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni. Dal curicum vita del studiato interessato pubblicato nella sezione società trasparente del sito web di Sose non risulta che egli sia mai stato dipendente di una pubblica amministrazione. La norma applicabile al caso di specie è il vigente articolo 5,9 del decreto legge 6 luglio 2012 numero 95. Tale normativa prevede il divieto di conferimento a titolo oneroso personale in quescenza di incarichi di consulenza, di studio, dirigenziali direttivi o di cariche di organi di governo delle pubbliche amministrazioni, degli enti e società da essi controllati. L'incarico a cui si riferisce l'esposto non è una consulenza ma un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza interazioni con la gestione aziendale. Anche l'affidamento di tali tipologi di incarico riguarda scelte di natura organizzativa e gestionale di competenza della società che tengano conto della natura dei compiti richiesti. Risulta infine che per l'affidamento dell'incarico sono state seguite le norme in materia di trasparenza e pubblicità. In conclusione il Dipartimento delle Finanze segnala che non emergono indizi sintomatici di malfunzionamento della società o che presentino profili di violazione o lesione delle regole di integrità aziendali. Va infine ribadito che nessun elemento di criticità è mai stato rappresentato dagli ordini di controllo e di revisione. Invito il collega Colletti a replicare. Non sono ovviamente per niente soddisfatto della risposta del Ministero. A me sembra in realtà che il Ministero voglia semplicemente coprire l'operato della SOS e nonché di Atella. come spesso e volentieri il Ministero copra il maloperato delle società a partecipazione pubblica dove ovviamente diciamo vengono nominati dalla politica, devono restituire comunque favore alla politica, vengono fatte nomine o assunzioni magari se va bene la metà raccomandati e la metà non raccomandati, ma il problema vero è che questo Atella, nominato, perché è stato nominato come direttore generale, è stata fatta una colla esterna per capire se vi fossero altre persone competenti, magari con maggior competenze gestionali, visto che lui era meramente professore universitario, oppure no? No. Se la sono vista fra di loro. Poi per quanto riguarda la dottoressa Serlenga, responsabile della corruzione, nonostante sia docenti di una materia estremamente diversa rispetto a trasparenza e corruzione. Per non parlare, il dottor Semiani, il quale un ottantenne che prende 650 euro al giorno per una consulenza al consiglio dell'amministrazione, il collegio sindacale non dice nulla, il collegio sindacale di cui fa parte addirittura un ex deputato e sottosegretario, coloro che vengono nominate beneficiari di molte nomine in società pubblica come il dottor Marco Cagna, tutti in silenzio perché non bisogna dire nulla di quello che succede nelle società pubbliche. Io, forse in voi, me la farei una domanda perché mi appare, ad esempio, qui mi è stata consegnata una offerta del dottor Semiani indirizzata alla SOS in cui lui offriva il proprio compenso per 39 mila euro annue. La domanda che mi pongo è come possibile che questo compenso nei tre anni sia arrivato fino a 250 mila euro circa, ovvero 650 euro al giorno. Sinceramente qui si parla di soldi pubblici, soldi che voi prendete attraverso le tasse dei cittadini e io credo che voi ne dobbiate rispondere e dobbiate controllare al meglio l'operato di queste società. Perché mi sembra, come mi sembrava anche nel Presidente Governo, che questo operato non lo state controllando. A tutto beneficio magari vostro e di chi può gestire i soldi di queste società, ma a tutto detrimento dell'interesse della pubblica amministrazione e dell'interesse pubblico. Mi corre l'obbligo di sottolineare che alcuni passaggi del linguaggio utilizzato dall'Onorevole sono inaccettabili. Questo lo dice il Presidente e non lo dice lei. Chiaro? Passiamo oltre, passiamo all'interrogazione 506286 Ungaro. Esenzione dell'Imu per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi. Invito il collega Ungaro ad illustrarla. Vado per letta, Presidente, grazie. Invito il rappresentante del Governo a rispondere. Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante nel richiamare la disciplina dettata dall'articolo 1,741 della legge 160 al 2019, la legge di bilancio 2020 in materia di Imu, chiede chiaramente in merito l'applicazione dell'esenzione Imu per la prima casa, con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti a 22 immobili nello stesso comune e in comuni diversi. A riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue. Giova a precisare innanzitutto che il citato comma 741 prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale per le relative pertenenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Di conseguenza, se si fatta ipotesi per espressa addizione normativa, l'agevolazione è sempre riconosciuta, seppur applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del legislatore di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi. Se non che è tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di Cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze 4166-2020-4172-2020 in cui la Corte di Cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso. In particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 comporta la necessità che è riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente ma vi risiedano anche anagraficamente, motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel comune mentre il proprio coniuge non legalmente separato ha residenze di mora abituale in altro comune. Il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione alla quale è affidato in ultima istanza nel nostro ordinamento giuridico il compito di fornire l'interpretazione della legge. Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione delle esenzioni tra i diversi comuni al quale si riferisce l'interrogante, gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono disponibili, ove su si stesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza. Grazie. Invito il collega Ungaro a replicare. No, grazie, ringrazio il suo segretario per la risposta e sono soddisfatto, grazie. Passiamo ora all'interrogazione 506180 Gusmeroli. Semplificazione degli adempimenti relative all'inserimento nella dichiarazione dei reti dei contributi e bonus ricevuti per far fronte alla crisi pandemica. Grazie. Invito il collega Gusmeroli ad illustrarla. La compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in corso sembra aver riportato indietro il contribuente di ben 29 anni, allorquando il fisco nel 92 introdusse il modello di dichiarazione dei redditi 740, cosiddetto lunare. Bisognava misurare i metri quadrati della propria casa, indicare la targa, i cavalli fiscali delle auto e una serie similari di dati, al punto tale che il modello venne stigmatizzato dalla loro Presidente della Repubblica, che lo definì particolarmente astruso da sembrare lunare. La storia sembra ripetersi, stante la richiesta del contribuente di indicare tutti i bonus contributi ricevuti, quali ad esempio contributi a fondo perduto, contributi per la locazione, per la sanificazione, investimenti pubblicitari regolati in virtù di diversi provvedimenti economici emanati nel corso dell'anno pandemico, per far fronte alla difficoltà economica e correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella frattispecie, le circa 50 pagine di istituzioni compilative dell'Agenzia delle Entrate richiedono indicazioni su detti bonus in ben tre quadri, RS, RU e RG, sebbene trattasi di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, in quanto precedentemente da essa validati per l'erogazione dei bonus medesimi. Ancora più assurdo, poi a parere degli interroganti, la richiesta nel quadro RG di aggiungere i bonus ai ricavi, di aggiungerli in qual modo ai costi, tenuto anche conto che sono bonus esenti da qualsiasi tassazione per disposizione di legge, cioè sostanzialmente non vengono tassati. Il paradosso infine è rappresentato dal fatto che un eventuale errore di compilazione fa incorrere il contribuente nel rischio di incorrere gli accertamenti e di sostenere l'onere di sanare gli errori e le regolità formali. È evidente come tale modus operandi confligge con qualunque buon proposito di un fisco amico e con qualunque proclama di semplificazione fiscale, anche e soprattutto alla luce degli impegni assunti dal Governo in merito al dibattito sulla riforma fiscale in itinere. Se e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogante con riguardo alle criticità esposte in premessa, in particolare relativamente alle richieste i dati in diversi quadri RS, RU, RE, RG, se sia possibile prevedere in futuro iniziative normative per un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze oppure dati inesatti o non completi, oppure che eventuali dati mancanti o dimenticati dal contribuente siano automaticamente e successivamente integrati dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati delle erogazioni dalla stessa disposte e considerando che trattasi di dati che non incidono sulla determinazione dell'imposta. Invite il rappresentante del Governo a rispondere. Grazie Presidente. Quindi le premesse le salto perché sono state adeguatamente illustrate. A riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue. Con riperimento ai quadri RF, RG e RE, che sono i quadri in cui sono determinati i redditi di impreso di lavoro autonomo, deve premettersi che in linea generale ad oggi la vigente normativa non prevede che l'Agenzia delle Entrate predisponga la dichiarazione dei redditi precompensati per i soggetti esercenti e attività di impresa o di lavoro autonomo, analogamente a quanto invece avviene per i lavoratori dipendenti e i pensionati per il 730 precompilato. Ciò in quanto molte informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione non sono nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria nei tempi richiesti per la predisposizione di un'ipotetica precompilata e anche perché le attuali regole di determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo sono molto articolate e richiedono una valutazione di situazioni di fatto conoscibili solo dall'operatore. Ciò premesso l'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi. In relazione ai soggetti in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF alla luce del principio di derivazione dell'utile fiscale da quello civilistico in virtù del quale in dichiarazione dei redditi partendo dall'utile civilistico si apportano le variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione delle norme fiscali al fine di determinare il reddito imponibile è necessario che i contributi ricevuti per non essere considerati ricavi siano indicati tra le variazioni in diminuzione. Per quanto gocciano il quadro RU che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese si premette che in esso vanno indicato solo le misure agevolative concesse sotto forma di credito d'imposta contraddistinte dagli appositi codici individuate nelle istruzioni per la compilazione del quadro con riferimento a tali misure agevolative nel quadro RU sono richieste informazioni che non sono a conoscenza dell'agenzia dell'entrata. In particolare in tale quadro vanno indicati gli importi maturati in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d'imposta e i valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi. Infine in relazione al prospetto degli aiuti di Stato contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi si evidenzia in primo luogo che le informazioni richieste necessarie di iscrizione nel registro nazionale degli aiuti di Stato RNA non sono tutte nella disponibilità dell'agenzia tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materie di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali. Ciò permesso si osserva che i contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017 numero 115 cioè regolamento istitutivo del registro nazionale degli aiuti di Stato. L'articolo 10 anzi detto prevede testualmente che tali aiuti si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale aiuti ai fine del presente decreto nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Pertanto proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10 si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali. In particolare nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari e consentire la registrazione degli aiuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'agenzia ossia la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto. Le norme comunitarie fanno rinvio a definizione i concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna. Si precisa che il software di compilazione messi a disposizione dell'agenzia in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto delle aiuti di Stato riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopradiscritte di cui l'agenzia non è a conoscenza, dimensione, forma giuridica, settore e codice attività. La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non avecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, non comporta relativamente a tali profitti alcuna conseguenza per il beneficiare delle stesse, neppure di tipo sanzionatorio. Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al coma 2 che l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale. Invito il collega Gosmeroli alla replica. Allora, sono parzialmente insoddisfatto, nel senso che uno avevo chiesto anche la compilazione dei quadri RE e RG e mi è stato risposto sui quadri RF, che ovviamente è un altro quadro che non era peraltro neanche nella domanda, cioè l'assurdità di dover mettere nel quadro RE e RG nei ricavi e contemporaneamente nei costi. Però prendo atto che dalla risposta parrebbe, considerando che l'RE e l'RG non servono per gli aiuti di Stato, che c'è un'apertura al fatto che se non venissero compilati quei due righi, a quel punto non ci sarebbe sanzione. Questo è il motivo della parziale soddisfazione e insoddisfazione. Per il resto devo dire che, data la tecnologia e data anche la complicazione che sta dietro tutta questa serie di contributi, uno sforzo maggiore era possibile. Ecco, spero che per l'anno prossimo in qualche modo l'Agenzia delle Entrate colga lo stimolo di questa interrogazione. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione 506287 Cancelleri, iniziative per la riforma del sistema della riscossione. Invito la collega Cancellera ad illustrare. Grazie, Presidente. Come evidenziano i dati esaminati dal Centro Studi Un'Impresa, tra il 2000 e il 2021 il fisco italiano è incassato solo il 13% del carico tributario. L'ultimo quadro fornito dal direttore delle Entrate e presidente della riscossione presenta un magazzino di 987 miliardi, di cui il 15% relativo a soggetti falliti, il 13% a persone o aziende morte, il 13% a nulla tenenti, il 45% a soggetti su cui sono state già avviate senza successo azioni esecutive e quindi su circa mille miliardi quello che si può realisticamente sperare di riscuotere è poco più del 7% del totale. Quindi l'inefficacia dei processi di riscossione è evidente e riformare il sistema della riscossione appare pertanto necessario e urgente. Quindi noi chiediamo se non si ritene opportuno dover assumere delle iniziative per riformare il sistema della riscossione anche nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie presidente. Anche in questo caso salto le premesse perché sono state già illustrate compiutamente dall'interrogante. Diciamo che la risposta che mi appresto a leggere nella prima parte richiama alcuni elementi che sicuramente l'onorevole conosce perfettamente ma serve per capire un po' l'evoluzione della questione e ci sono come lei sa e come tutti sapete delle recenti novità introdotte in materia di riscossione volta ad effettuare uno stralcio delle cartelle fiscali di minore d'età partendo dalla problematica che l'onorevole ha illustrato. Quindi l'articolo 4 del decreto sosteni convertito dalla legge 21 maggio 2021 un numero a 69 prevede nel comma 4 seguenti l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto fino a 5.000 euro comprensivo di capitale e interessi per ritardate iscrizioni a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Detta misura riguarda i carichi ricomprese anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Il successivo comma 5 prevede che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto siano stabilite le modalità delle date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del relativo discarico delle conseguenti eliminazioni dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale che fesserà la data dell'annullamento automatico dei debiti è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto fino a 5.000 euro comprensivo di capitali interessi per il trattato iscrizione e ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati alle agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. Il comma 10 del menzionato articolo 4 prevede espressamente che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione che è il tema principale posto dall'interrogante il ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto debba trasmettere alle camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni i parlamentari. A riguardo si fa presente che l'accennata relazione in esame è attualmente in corso di prodisposizione e sulla base delle informazioni e indicazioni in essa contenute potranno essere individuate gli ipotetici interventi di riforma eseguibili in materia di riscossione. Invito la collega cancelleria a replicare. Grazie, grazie sottosegretaria per la risposta. Noi come Movimento crediamo che esattamente come stiamo lavorando sulla riforma fiscale del fisco, di revisione del fisco, sarebbe probabilmente stato opportuno rivedere tutto l'impianto sia della normativa ma anche proprio degli strumenti nel nostro paese della riscossione. Probabilmente non siamo nei tempi necessari però se tutti condividessimo questo obiettivo si potrebbe comunque lavorare. Io cito nella domanda il PNRR perché uno degli aspetti era proprio quello della riscossione e lo ritengo uno strumento diciamo molto importante che potrebbe aiutarci nell'ambito di quella celerità che servirebbe rispetto alla riscossione perché possiamo riformare il fisco, possiamo prevedere molti strumenti per la crescita però se poi lo Stato ha questo buco, questo gap nell'ambito della riscossione comunque i risultati saranno sempre parziali. Quindi le notizie che lei mi ha fornito, le informazioni che mi ha fornito che in parte conoscevo sono positive però forse sono ancora poco, è un inizio e quindi ehm dico anche la Corte dei Conti si è espressa dicendo che appunto eh nei dieci anni eh cioè che che negli ultimi vent'anni eh si è riscosso troppo poco, la percentuale di riscosso è eh inferiore al trenta per cento e quindi anche la Corte dei Conti ci dice che dobbiamo lavorare su questo tema. Ehm quindi la ringrazio ancora per la risposta. L'invito che eh facciamo come movimento è quello di di rivedere e di lavorare anche sul nell'ambito della riscossione e al governo che eh diciamo ha un'attività tramite i decreti abbastanza corposa di prevedere anche un riordino che può essere una semplificazione eh o un eh un miglioramento anche dei meccanismi informatici nell'ambito della riscossione. Quindi un maggiore impegno da parte del Parlamento ma anche del del governo. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione cinque zero sei due otto otto Giacometto. Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito. Invito il collega Giacometto ad illustrarla. Grazie presidente. Noi nella nostra interrogazione siamo partiti da uno studio di SOS tariffe punto it che ha messo in eh competizione diciamo così in paragone ventisei istituti di credito analizzando nei fogli informativi e ha scoperto che la diffusione io direi la guerra al contante ma la diffusione alla al denaro digitale faccia crescere i costi dell'utilizzo del proprio contante a a carico dei dei correntisti stessi. Questo viene determinato dal fatto da un lato che eh i punti ATM cioè gli sportelli banco sono in lieve ma comunque sensibili a diminuzione negli ultimi anni. Gli stessi sportelli bancari sono eh diminuiti del trenta per cento sempre secondo uno studio della fondazione sussidiarietà sui dati della Banca d'Italia e quindi ciò determina evidentemente eh la eh necessità da parte dei correntisti di prelevare attraverso sportelli sempre più ridotti sempre meno capillari magari con costi utilizzando ad esempio la carta di credito che sono eh che hanno una una eh una commissione media che si aggira intorno al quattro per cento e che determinano dei costi annuali di gestione delle carte stesse sia di debito sia di credito che circa il doppio rispetto alle banche online. Stiamo parlando di circa quarantacinque cinquanta euro annuali rispetto ai ventitra e venticinque euro delle carte online, delle banche online. Quindi con questo question time eh chiediamo quali iniziative di competenza il governo intende adottare per ridurre i costi di gestione di prelievo delle carte di credito e di debito tramite i quali i cittadini utilizzano denaro proprio sulla quale sul quale evidentemente hanno già pagato le tasse e quindi deve essere disponibile eh in maniera totale. Noi peraltro siamo contrario a ogni tipo di restrizione rispetto all'utilizzo del contante e nonché per favorire il mantenimento di un adeguato numero di punti ATM e cioè degli sportelli Bancomat sul territorio nazionale perché questo evidentemente la capillarità favorisce l'utilizzo del denaro proprio senza costi alti a carico dei correntisti. Grazie. Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente. Riscontro in riscontro all'interrogazione relativa a così di gestione di prelievo delle carte di credito che abbiamo appena ascoltato. Si segnala preliminarmente come indicato anche da Banca d'Italia sentita in ragione della competenza in materia che le scelte relative all'apertura e localizzazione delle ATM nonché all'applicazione delle commissioni legate all'uso di carte di debito e credito rientrano nell'autonomia imprenditoriale delle banche. Ciò premesso con riferimento a quanto segnalato nell'interrogazione si precisa che non sono pervenute segnalazioni in merito alla difficoltà di accesso al denaro contante neppure durante l'attuale periodo di emergenza pandemica. Infatti in generale i livelli di accettazione del contante in Italia si aggirano intorno al novantanove per cento delle operazioni a fronte di una media europea del novantotto e confermano come il denaro contante resti una delle modalità di pagamento più diffuse e accettate nel Paese. La fonte di questi dati è uno studio che si chiama Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area di Space del dicembre 2020. Si aggiunge con riferimento ai costi legati all'uso delle carte di debito e credito che si registrano iniziative private lanciate da alcuni players della filiera dei pagamenti con carta volte ad azzerare le commissioni applicate agli esercenti per i micropagamenti effettuati con carta. Si citano a titolo esemplificativo l'azzeramento delle commissioni per le transazioni fino a 5 euro effettuate sul circuito Pago Bancomat e il rimborso delle commissioni per le transazioni fino a 10 euro effettuate con carta prevista a favore dei piccoli esercenti titolari di un contratto di convenzionamento con Nexio o altre banca di partner. Con specifico riguardo alla riduzione delle ATM, la Banca d'Italia ha inoltre fornito i seguenti elementi informativi. In Italia sono presenti oltre 48.000 sportelli ATM bancari e postali, pari a 81,5 ATM ogni 1.000 abitanti, poco sotto il dato medio europeo di 83,6. L'operatività per sportello, pari a 17.000 prelievi per ATM, è inferiore al dato europeo, 25.000, ma con importi medi prelevati superiori, oltre 200 euro a fonte di 150 euro nella UE. Dall'ultima indagine condotta dalla BCE sull'utilizzo degli strumenti di pagamento presso le famiglie non si registrano particolari disagi circa l'adeguatezza delle reti di accesso al contante nel confronto internazionale. Tuttavia, il numero di ATM per abitanti è diminuito negli ultimi cinque anni in Europa e in Italia, meno 1% l'anno. Nel 2020 la riduzione nel nostro Paese è di meno 1,4% rispetto al 2019, la riduzione è seguita a quella molto più marcata degli sportelli bancari, meno 4% in media nel quinquennio. In calo anche il numero di prelievi di contante del sistema bancario, soprattutto nel 2020, per effetto della pandemia, meno il 20% sul 2019, meno 3% l'anno dal 2015, sebbene la quota dei prelievi da ATM rispetto al totale dei prelievi da sportello sia aumentata ulteriormente negli ultimi cinque anni dall'82 all'87% nel numero. La Banca d'Italia conclude precisando che i prelievi con carta di debito presso la banca del cliente titolare sono generalmente gratuiti. Nel caso dei prelievi con carta di credito, le commissioni sono generalmente espresse in percentuale dell'importo e tengono conto della funzione creditizia dell'operatività delle carte. Invito il collega Giacometto a replicare. Citando il vicepresidente Gusmeroli sono parzialmente insoddisfatto rispetto a questa risposta. Dico parzialmente insoddisfatto perché certamente la mole di dati con le relative fonti che il sottosegretario Guerra ha citato nella sua risposta sono certamente dati importanti che valuterò con attenzione una volta poi acquisito il documento. Alcuni peraltro sono anche diciamo in leggera contraddizione rispetto a quanto scritto nella nostra interrogazione. Pertanto ne prendo atto, verificheremo e di questo ovviamente la ringrazio. Sono parzialmente insoddisfatto, qui la parte diciamo meno positiva, sempre usando gli eufemismi che ci piacciono tanto, rispetto alle iniziative che noi chiedevamo che il governo potesse mettere in campo per limitare il più possibile i costi di transazione. Lei ci ha citato alcune cose che autonomamente nella loro autonomia imprenditoriale, come è stata definita da parte degli istituti bancari eh e degli istituti di che che organizzano i pagamenti elettronici, le società che fanno questo mestiere che sono nate peraltro negli ultimi anni. Perché sono nate? Perché la politica in generale ha spinto all'utilizzo delle carte di debito e di un modello eh che è stato portato avanti ehm non certo da noi che riteniamo invece che l'utilizzo del contante non debba essere disincentivato in questo modo eh ma c'è stato, l'hanno fatto nella loro autonomia e e probabilmente c'è la necessità di lavorare ancora in una direzione eh maggiore rispetto al favorire i correntisti nell'utilizzo del del loro eh del loro del loro denaro no? Senza eh sopportare costi che magari potrebbero essere sempre crescenti. Quindi questo da questo punto di vista eh mi auguro invece che eh in prospettiva si faccia un ragionamento sul fatto che appunto si debba limitare il più possibile il costo di questa transazione. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione cinque zero sei due otto nove Albano. Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistemica per il periodo di imposta duemilaventi. Invito la collega Albano ad illustrare. Grazie presidente. Una piccola considerazione sull'ordine dei lavori che vengono mh spesso diciamo scombussolati, cambiati senza che ce ne sia eh comunicazione. pertanto richiedo così una maggiore attenzione. Grazie. Per il resto eh dunque eh non non provvederò all'illustrazione. Si tratta solamente dell'applicazione o la disapplicazione in essere eh relativamente al mancato superamento dei parametri di operatività ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica. Grazie. Invito il rappresentante del governo alla replica. anche in questo caso essendo stato precisato l'oggetto dell'interrogazione da parte dell'interrogante passo direttamente alla eh salto le premesse insomma. A riguardo sentiti gli uffici competenti si rappresenta quanto segue. Come ricordato dalle stesse interroganti il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo l'articolo trenta della legge sette ventiquattro del novantaquattro e in perdita sistematica. Articolo due commi trentasei deces e trentasei undeces del decreto legge centotrentotto del duemila e undici in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica è stato oggetto di una proposta di modifica normativa non approvata anche in ragione degli effetti negativi di getito alla stessa scritti della ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso anche in considerazione della eterogeneità delle situazioni riscontrabili l'agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo trenta comma quattro bis della legge sette ventiquattro del novantaquattro e dall'articolo due comma trentasei deces del decreto legge centotrentotto del duemila e undici gli interpelli presentati essensi dell'articolo undici comma uno lettera b della legge duecentododici del duemila e venti da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi degli incrementi di rimanenza e dei proventi lunga del reddito ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta su valore aggiunto di cui al precedente comma quattro dell'articolo trenta della legge sette due quattro del novantaquattro invito la collega Albano a replicare grazie presidente grazie sottosegretaria guerra io invece mi ritengo totalmente insoddisfatta dalla risposta del governo perché vede sottosegretaria oggi è il ventitré giugno no? E si avvicina inesorabilmente il momento dei bilanci delle dichiarazioni dei redditi e dei versamenti e quest'anno si pone un po' un problema un problema grave rispetto alla verifica dei parametri di operatività proprio delle società di comodo e delle società non operative quindi che cosa può accadere? Che le società potrebbero non superare questi test di operatività ma non a causa appunto di un'essenza e un'esistenza di una mancata operatività o della sussistenza di essere società di comodo ma per diciamo il calo dei ricavi causato dalla pandemia si pensi per esempio la questione delicatissima si pensi per esempio alle società immobiliari già eh sono stati ridotti canoni sono stati risolti molti contratti di locazione ma il coefficiente di redditività che viene applicato che è quello del sei per cento che già attualmente è abbastanza eh diciamo irrealistico diventa totalmente irrealistico in un momento come questo ora chiedevamo se la la normativa fosse già disapplicata già il governo aveva come giustamente ricordato dalla sottosegretaria eh provato ad applicare no le le delle cause del l'esclusione del del diciamo delle società di comodo della normativa eh nell'anno duemilaventi e poi non è stato questo non è stato eh accolto per un rilievo da parte della ragioneria generale. Ancora non sembra eh dubbia sembra dubbia non automatica l'interpretazione legata a un provvedimento dell'agenzia delle entrate che dice che i versamenti tributari di società per quali gli adempimenti i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizione normativa adottata in conseguenza l'edificazione dello stato di emergenza possa diventare anche in questo caso la possibilità di disapplicare la normativa in questione. Secondo Fratelli Italia è necessario, è improcrastinabile un complessivo ripensamento di questi istituti. Noi chiediamo la soppressione degli stessi che abbiamo fatto con le proposte emendative e proposte eh di vario genere però un adeguamento dei coefficienti ormai anacronistici, una revisione del meccanismo probatorio che è sempre a carico del contribuente riteniamo che sia improcrastinabile. Per questo con semplicità e chiarezza avevamo chiesto la disapplicazione però l'avevamo chiesta non solo per il contribuente ma anche per l'amministrazione finanziaria per non doversi ritrovare come lei ci ha eh ricordato ci ha detto insomma che in questo momento potremmo fare con una valanga di interpelli per poter distanze di interpello per poter chiarire le singole posizioni. Ecco se questo è eh semplificazione, se questo è aiuto alle imprese, questo è aiuto agli aziende, ai contribuenti ecco penso proprio che ancora non ci siamo. Grazie. Dichiero pertanto concluso lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.